Al via la 36esima edizione della Giostra dei Castelli, festa medievale in programma presso il Castello di Torre sabato 17 e domenica 18 settembre. Quest'anno la rievocazione, che ricorda alcuni eventi accaduti in queste terre a fine 400, ritorna alla formula pre-pandemia, con spettacoli di giullari, musici, cantastorie, sputafuoco e trampolieri per divertire gli spettatori di ogni età, ma anche botteghe, buon cibo e bevande medievali, che catapulteranno tutti nella misteriosa atmosfera di oltre cinque secoli fa. Non abbiamo neppure fatto in tempo ad uscire dalla pandemia che ci siamo subito ricacciati in una crisi economica energetica, forse anche peggiore. Tutto questo indurisce i cuori, mortifica anche l'entusiasmo e ci crea più preoccupazioni. Bene, la realizzazione di iniziative come la Giostra dei Castelli consente da un lato di rinvertire un'antica tradizione e dall'altro lato anche di poter fare comunità e stare insieme. Io ne approfitto per ringraziare sentitamente i volontari dell'Associazione di Castello, che nonostante le difficoltà economiche che attanagliano i comuni, le famiglie e le imprese, sono riuscite a garantire un calendario interessantissimo e che permetterà a migliaia di visitatori di passare qualche ora spensierata. Si tratta tra l'altro poi di sottolineare anche la bellezza del posto in cui viene svolto, cioè nel quartiere di Torre, che è il quartiere storico della nostra città. Quest'anno ritorniamo alla forma originale, quindi avremo anche la sfilata in costume storico, sia il sabato sera dal Castello di Torre, dove il Conte di Ragonia scenderà verso l'area festeggiamenti, sia la domenica pomeriggio alle 3, dove il Conte e poi tutti i nobili, tutti i gruppi che partecipano alla rivocazione storica, scenderanno dal castello verso Piazza Don Lozer, dove ci sarà un piccolo spettacolo e da lì poi si andrà verso l'area festeggiamenti. Avremo la presenza del Falconiere, poi domenica avremo anche Alfio Scandurra con il suo asinello Fiocco, un bellissimo mercato medievale con circa una quindicina di banchi e poi l'area della locanda, che è curata in modo particolare dall'associazione Castello, quindi la nostra associazione, dove come cavallo di battaglia della locanda troverete la cialda, che è una specie di piadina che viene lavorata al momento, cotta al momento in forno a legna e poi farcita con quello che poi troverete disponibile. Ritorna il format del Medioevo dei Bambini, una serie di spettacoli tutti dedicati ai più piccoli, non mancheranno i grandi spettacoli finali sia il sabato che la domenica con Trampolieri, Sputafuoco, Fachiri, Effetti Speciali e quant'altro, sono più di 50 gli artisti in totale che arrivano dalle diverse regioni d'Italia per animare questa manifestazione e quindi l'invito davvero è quello di venire a vivere con noi questa emozione e questo tuffo indietro di più di cinque secoli che rivivarà grazie ai racconti, agli spettacoli, alle gesta e alle risate che questi artisti formidabili riusciranno a trasmettere al pubblico. Per l'occasione, sabato pomeriggio e domenica per tutta la giornata, il Museo archeologico del Castello di Torre rimarrà aperto con ingresso gratuito. Inoltre, domenica alle 15.30 verrà effettuata una visita guidata al castello con la collaborazione dell'Associazione Eopolis. Per consentire lo svolgimento di questa festa, Via Vittoria Veneto rimarrà chiusa al traffico da sabato pomeriggio a domenica sera.